buongiorno ciao ragazzi stiamo ridendo perché voi dovete sapere che il fuorionda di CFA è sempre è imperdibile qualche volta dobbiamo fare i fuorionda dovremmo dovremmo allora Nicola ci stava parlando di alcune sue disavventure familiari no ma siccome io entro in questa stanza e voi raccontate cose serissime progetti, tentativi di golpe rivolte, roba del genere e allora io vi ascolto ovviamente non vi disturbo però stavo sentendo questa cosa meravigliosa di affidare una trasmissione a Carlo Stagnaro e Luciano Capone e mi è venuta in mente una cosa un po' folle una delle minchiate delle mie insomma quelle di di craccare il segnale entrare all'improvviso dentro la trasmissione e fare una domanda a tutti e due sull'economia in stile Toninelli capito per vederli svenire svenire tutti e due e poi però siamo intervenuti io e Costantino in qualità di membri del direttivo di Liberi Oltre e abbiamo imposto che la domanda non si fa sull'economia in stile Toninelli ma si fa sulle camicie di Luciano no no le camicie di Luciano è come è come mettere in in dubbio l'esistenza dello spirito santo cioè le camicie di Luciano non fare il finto tonto che no ma tanto era fuori io non racconta quello che ci stavi dicendo ma no ma dai fammi ridere che oggi non ho bisogno eh il mondo sta andando capito dritto dentro un buco nero cioè praticamente voi mi tenete a CFA solo perché sparo cazzate che vi fanno ridere io ho capito questa cosa eh perché sei un ragazzo intelligente eh lo so lo so no è molto semplice una volta ho perso siccome mia moglie adora le camicie di Capone in linea generale adora come si chiese Capone adora Capone e una volta abbiamo fatto una scommessa che ovviamente io ho perso cioè era evidente che perdevo io non pratico sport estremi non discuto con mia moglie ci scommetto e perdo funziona così diciamo quasi tutti i giorni eh e la posta in palio era era se vinco io mi ho detto Nicoletta ti vesto come Luciano Capone e io ho detto no preferirei andare in giro nudo fra via del corso e piazza Venezia no adesso questa cosa me l'avete fatta dire ma povero Capone non voi lo sapete che io gli voglio bene ma gli vogliamo eppure 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 tanto eppure tanto però questa cosa è venuta fuori ho perso la scommessa e quindi ho nell'armadio un paio di camicie in stile Capone che sogno ovviamente di farmi firmare in diretta da Capone allora la camicia autografata da Luciano adesso organizziamo un incontro in modo che Luciano possa autografare le camicie che ha in che prima o poi indosserai potremmo fare un incontro magari indossi un incontro Luciano così ci sarà anche questa questo mix a me piace questa deriva dei CFA e di liberi oltre mi piace che ci difendiamo dall'orrore quotidiano dell'umanità con queste minchiate bello mi piace lo facciamo per quel motivo assolutamente assolutamente sì mando la sigla siete diventati trampiani anche voi sì bravi ragazzi soprattutto dopo gli annunciati nomine ma ne parleremo dopo dai mando la sigla paperoga alla sanità sì ho sentito paperoga alla sanità pianta 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 io mi초 Allora, io vedo in programma nel programma che è stato compilato da Canestrari e dovremmo parlare prima dello scontro fra Musk e Mattarella. Però io non so se posso mandarlo in onda, devo dire la verità, ho una voglia tremenda di mandarlo in onda, ma non vorrei che l'autore geniale si adattino a questa cosa. Avete visto il vero discorso di Mattarella contro Musk fatto dal grande fragello? No, non l'ho visto. È stata una settimana veramente purtroppo molto pesante. Io ci provo. Ma andiamo in onda perché ha veramente bisogno di qualcosa di leggero. E allora, adesso ve lo mando in onda, dai. Aspettate un attimo. Scusate la mia ignoranza, ma sta roba vera è andata a finire su Canale 5 a strisciare la notizia alle otto e mezza di sera. Però, allora, se i nostri registi hanno tagliato per caso il video che abbiamo appena mandato, perché ovviamente passerà da quello, andate a cercarvi il video del discorso di Mattarella fatto dal grande fragello perché fa veramente ridere. È geniale, secondo me è geniale. Beh, sì. Direi, direi di sì. Ma la chiusura Magno Ronfaki Business è bellissima. La voce di Mattarella è bellissima. Beh, però, un po' Musk si è fatto il business dei cazzi nostri con qualche guadagno, se non in termini economici quanto meno in termini politici, per cui ci sta. Sì, poi ho visto che dopo ha provato a replicare dicendo le solite cose sulla libertà di parole, eccetera, eccetera. A me quello non è piaciuto. Mi è sembrato che non era lui, cioè che era un suo portavoce, qualche ufficio stampa. Sicuro. Perché non è lui, cioè almeno lui, capito, uno gli risponde e lui sale di tono. Questa cosa, cioè, che i cattivi facciano i cattivi e qualche volta siano purtroppo anche divertenti ci sta, ma quando i cattivi fanno i mezzi democristiani, mazza, che palle. Questo è veramente brutto. No, vi racconto io una cosa divertente. Ora, a parte Canestrari che ha iniziato a leggere libri perché finalmente ha fatto a casa una libreria, Costantino, quindi in questo caso, scusa Canestrari, mi ricordo a Costantino, Costantino sai che in Sicilia negli ultimi 5.000 anni sono passati tutti, 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 tutti. E a parte scaramucce, qualche scontro armato e roba del genere, in realtà in Sicilia non ci sono svolte grandissimi scontri militari, no? Nonostante non siamo proprio il miglior popolo del mondo, non siamo proprio fra i peggiori, siamo abbastanza accoglienti, diciamo. Qualche giorno fa ho letto una notizia e ho chiamato un caro amico che lavora a Palermo e ho detto, ma è vera? È vera o è qualche scemo che non ha capito niente e ha pubblicato una notizia falsa? Lui ha detto, no, è vera, è vera. Qual è la notizia vera? Che c'era uno spettacolino messo in piedi da un gruppo di bambini, una scuola elementare mi sembra, e fra questi bambini c'erano anche bambini di razze diverse, no? A parte che dire di che razza è un palermitano, un bambino palermitano, un bambino siciliano è difficile, insomma, visto che è un cocktail tra greci, normanni, spagnoli. Appunto li abbiamo avuti tutti. Biondo. Biondo. Esatto. È passato uno di questi deficienti alla moda, quindi prossimo alla candidatura in qualche partito, che li ha un po' apostrofati e se ne è andato dicendo ma questi non sono bambini italiani, preferisco i bambini bianchi. Ora ragazzi, se queste battute, se queste sciocchezze vengono pure dette a Palermo siamo veramente alle porte dell'armageddo, cioè è spettacolare, è veramente spettacolare. Io qui mi fermo, questa è l'aria dei tempi, l'aria malsana. Una brutta aria, sì, vero, bruttissima aria, bruttissima aria, tanto che sono quasi spaventato, non mi spaventavo, comincio ad essere un pochino timoroso. No, ma perché la cosa, poi vi lascio, nel senso che mi ha zitto, non me ne vado, rimango, ma zitto. copio una battuta, che è una battuta insomma amara e un po' acida. Un tempo si facevano le analisi politiche, anche delle peggiori sciocchezze. Adesso invece l'unica cosa che possiamo fare sono le analisi cliniche, alcune volte psichiatriche, di chi dice o fa certe cose. E questa cosa è ormai veramente stratificata, cioè dal dal basso verso l'alto e viceversa. Analisi cliniche. Basta. Facciamo una puntata titolata Analisi cliniche. Se siete d'accordo. Ci sta. E mi metto la camicia di Capone. Entime, beh, perfetto. Filmata, bellissimo, bellissimo. Va bene? Bene. No, ma voi come la vedete come la vedete su questo che poi non è un scontro tra Musk e Mattarella. Cioè è Musk che fa Musk e Mattarella che alle sue prerogative non nomina mai Musk ma come ha detto altre volte peraltro intervenendo sempre con molto garbo istituzionale quando gli attacchi a ordini o poteri dello Stato arrivavano dall'interno sempre con grande garbo ha ricordato quali sono i confini stabiliti alla Costituzione. Io sono in questo caso e in altri totalmente dalla parte di Mattarella. Anche perché vi aggiungo io credo che se Musk non avesse come dire alimentato o meglio Musk può fare quello che vuole può anche dire quello che vuole come noi possiamo dire che so io che gli Stati Uniti probabilmente saranno governati da una massa di imbriachi perché se quelle saranno le nomine che arriveranno dopo gli annunci probabilmente avere un Novax al Ministero della Salute avere una tizia che fino a ieri difendeva le ragioni di Putin ai servizi segreti e così via sono l'assetto istituzionale americano e sembra essere gestito nel migliore dei casi da ubriachi io sono libero di dirlo così come Musk è libero di dire che il potere della magistratura si distruttisce allo Stato non è quello il punto però il punto è un altro che i politici che magari hanno funzioni di governo cavalcano le parole per portare avanti la loro battaglia politica e secondo me Mattarella parla suolcera per far arrivare il messaggio nuora credo che questo sia il senso sì penso proprio di sì però la domanda secondo me l'altra domanda da porsi è ha fatto bene Mattarella rispondere a Musk nel senso Elon Musk non ha alcun incarico istituzionale e non può neanche non ce l'avrà neanche nell'amministrazione di Trump un incarico istituzionale formale nell'amministrazione perché non può averlo perché ha dei contratti con parecchie agenzie federali e allo Stato è un privato cittadino che ha contribuito a una campagna e che frequenta il futuro presidente degli Stati Uniti che ha fatto un commento che se fosse arrivato da un qualsiasi capo di Stato anche soltanto rappresentante eletto di un paese straniero o anche del nostro paese il capo dello Stato avrebbe fatto bene a rispondere e a difendere le nostre istituzioni ma se ci mettiamo a rispondere a qualsiasi privato cittadino con un po' di potere e con un po' di soldi scomodando il presidente della Repubblica a parte che il ruolo del presidente della Repubblica diventerebbe solo quello perché ovviamente c'è 8 miliardi su questo pianeta ma più seriamente il il fatto è che abbiamo sostanzialmente di fatto accettato la circostanza secondo la quale sei un interlocutore a livello del presidente della Repubblica se hai quel tipo di posizione cioè tanti soldi molta influenza e una frequentazione con il futuro presidente degli Stati Uniti è una macchina un po' pericolosa secondo me oddio non so pericolosa però non lo so mi è parsa un po' una nota stonata non che non si raccorda con il merito di quello che ha detto il capo dello Stato ci mancherebbe altro ma dire a uno come Musk che ha insultato le istituzioni del nostro paese no noi sappiamo badare a noi stessi non lo so non lo so mi è suonato un po' odd come dicono qua in Regno Unito non so voi io sono d'accordo con Canestrari voto la mozione Canestrari però il titolo è una singola attenzione colpi di suca questo è il titolo non puoi essere d'accordo ma vero avete fatto ma vero avete fatto noi ti prendiamo sul serio quando dici le cazzate cioè tu madonna mia cioè quindi fra le tante responsabilità che ho ho anche quella nei confronti di voi due cioè io vi dico una cosa ve la fate come no soprattutto da una cazzata ho capito buono 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 a sapersi ragazzi adesso ne tiro fuori i 3-4 all'ora per le prossime 182 ore vediamo che succede no comunque sul serio sul serio secondo me pure è un errore politico e di comunicazione non è solo una scivolata si poteva fare è proprio un errore è proprio un errore però insomma la cosa non mi appassiona io credo che Mattarella senta il il peso dello scontro e senta e forse riesce anche a vedere cose che noi i comuni mortali non vediamo perché siamo qui se c'è o non c'è e se c'è quanto è grave un pericolo di messa in discussione dell'assetto istituzionale mi spiego noi non sappiamo quando ieri ha fatto la dichiarazione che lui ha firmato anche ha promulgato delle leggi sulle quali non era d'accordo cosa che lui come sappiamo le può rimandare in Parlamento a volte ha senso rimandarle in Parlamento a volte non ha senso rimandarle in Parlamento come dice è nel mio dovere quello di firmare delle leggi che vengono approvate dal Parlamento non sappiamo però quali persone ci sono cioè se il capo dello Stato prima di firmare pone un rilievo io mi ricordo quando fece delle comunicazioni pubbliche delle vere lettere al governo nel periodo giallo-verde non so se ve lo ricordate e quello alimentò uno scontro poi c'era stato ancora prima quella sciocca pantomima dell'impeachment proprio contro di lui peraltro cioè io mi immagino Mattarella che riceve un testo di legge lo deve firmare però prima di firmarlo rendendosi conto come il caso delle ultime francamente le ultime tre grandi capitoli di queste presunte riforme di queste presunte azioni di governo del governo Meloni sono palesemente complicati non voglio dire che sono incostituzionali però sono sicuramente delle forzature poi vedremo come andrà a finire l'autonomia perché so per certo che ci saranno dei ricorsi in corte costituzionali sulla legge sull'autonomia e quindi non sappiamo se le risposte dei rappresentanti del governo in privato non quelle che si leggono sui giornali che avvengono su dichiarazioni pubbliche rassegna stampa pubblica quanto possono essere tra virgolette violente sono situazioni che abbiamo visto nella storia italiana non soltanto nell'ultimo periodo ma che abbiamo visto per esempio negli scontri che a un certo punto deflagrarono fra Scalfaro e Berlusconi cioè c'è un governo c'è una classe politica classe dirigente italiana che ritiene che il voto popolare che l'investitura popolare sia sopra della norma della legge anche della prassi istituzionale però lasciamo perdere la prassi della legge e io non so quanto Mattarella veda questo pericolo probabilmente ha un punto d'osservazione che è migliore del nostro e quindi se se ne esce con affermazioni che cominciano ad essere tante di questo tipo credo che possa dipendere anche dal fatto che lui vede una classe dirigente che tendenzialmente non rispetta la legge o che non vorrebbe rispettare la legge o che ritiene che ogni tanto è partito non so perché Gemini avrò detto qualche parola particolare vede una classe dirigente una classe politica che si sente o che tendenzialmente vorrebbe essere al di sopra della legge e lui la richiama all'ordine io questo vedo Marco vero? secondo te è così? sì sì è una lettura che condivido però a maggior ragione non capisco se c'è quel fronte aperto perché mettersi ad aprire fronti internazionali di quel tipo tornando a Musk capisco che lui si renda conto dell'influenza o meglio dei rapporti che ci sono anche col governo italiano e sì immagino che abbia fatto quella affermazione per mandare un messaggio rivolto al capo del governo nascondiamoci dietro un dito perché il capo del governo italiano è quello in Italia dopo Andrea Stroppa che ha il rapporto più stretto con Elon Musk però se sei il capo dello Stato alzi il telefono e parli col capo del governo non mandi messaggi di quel tipo secondo me non lo so non mi è piaciuto proprio quell'uscita non 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 penso sia stata non penso che l'Italia come paese sovrano abbia dato l'impressione rispondendo a un'affermazione da bullo di un bullo di un paese sovrano sì sì voi mi state sempre più convincendo al netto che ve lo ripeto però questa discussione mi mi eccita poco però Marco se il presidente avesse alzato il telefono ovviamente ve la faccio a modo mio no quindi tipo fumetto avesse alzato il telefono e avesse detto al presidente del consiglio senti Carina questo qui io non lo voglio in mezzo alle scatole non se ne parla neanche e per in mezzo alle scatole così capiscono tutti ci sono di mezzo affari miliardari sulla rete e tutto il resto che poi la predisposizione ideologica e culturale per gli uomini d'affari è e Elon Musk questo è non per niente è l'uomo più ricco del mondo è un uomo d'affari ed è il più ricco del mondo una scenetta così Marco che ti ho disegnato velocemente sarebbe finita sarebbe finita manipolata sui giornali di tutto il mondo e avrebbe esposto non il presidente della Repubblica ma la presidenza della Repubblica ha uno scontro politico che 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 non è congeniale non è ehm come si posso dire non è utile non è congeniale alle funzioni del presidente non è utile non è costituzionalmente potabile e tutto il resto eh quindi forse eh fra fra le due posizioni estreme stare zitto oppure chiamare il in un certo senso l'alleata italiana di di Musk che è ovviamente la presidente del Consiglio ma fino a un certo punto ma questo lo vedremo piano piano nel corso dei mesi forse quello che quello che ha deciso di fare il Quirinale è è la cosa più insomma meno invasiva meno invasiva meno invadente per quanto è tanto per darti fastidio che ho mi è venuta in mente questa terza posizione perché io la penso esattamente esattamente come te questo è poi ma voi che siete dei turboliberisti con con la paleolica in testa lo sapete bene questo però con il cocktail in mano però con il cocktail in mano sì 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 con il cocktail in mano quella è l'unica cosa che mi piace del vostro turboliberismo il cocktail in mano approvo qui ci sarebbe una lunga discussione che si fa da circa 3.000 anni 4.000 anni cioè se nella democrazia che si che aspira ad essere fra le tante cose che aspira ad essere anche il governo diciamo dei migliori debba essere contemplata l'ipotesi che fra questi migliori ci sono quelli ricchi quelli molto ricchi quelli molto ricchi ovvero e quindi al contrario proprio perché sei molto molto ricco invece dovresti tenerti dovresti essere tenuto diciamo in un certo senso lontano dall'influenza sugli affari pubblici diretti direttamente direttamente ovviamente questa è una cosa che lascio a voi appunto turboliberisti col col cocktail in mano minimicherò minimicherò molti turboliberisti il conflitto di interessi che è in capo a Elon Musk i conflitti di interessi perché non è neanche solo uno sono giganteschi enumeriamoli proviamo a enumerarli allora le società di Musk le conosce meglio di chiunque altro al mondo credo dopo Musk Marco Canestrale quindi enumeriamo che cosa fa Musk nella vita per mettere il pranzo con la cena a tavola allora ci sono direi le due più importanti che sono in conflitto di interessi sono SpaceX e Tesla SpaceX costruisce razze e capsule per l'orbita bassa e non solo e ha molti contratti tra cui quello più recente importante è quello per il modulo di atterraggio delle missioni Artemis che riporteranno gli uomini intesi come uomini e donne la razza umana sulla luna dopo 50 anni l'altro è Tesla ovviamente il contratto di Musk con con per SpaceX i contratti per SpaceX riguardano anche il ministero della difesa americano ovviamente perché Starlink hanno creato con Starlink una constellazione di satelliti che sono lo stesso servizio però amministrato dalla difesa direttamente e quindi per evitare i problemi che abbiamo visto in in Ucraina la difesa ha detto va bene faccio una costellazione uguale che gestiamo noi e decidiamo noi come usare e lui l'ha fatto perché l'ha pagato ci sono ovviamente appunto i contratti con NASA e ci sono i contratti con i privati perché comunque il suo servizio è migliore è quello che costa meno in quel settore non c'è niente da fare così poi c'è Tesla che è un'azienda che se comparata alle altre costrutture automobili non è particolarmente efficiente perché il revenue lo diceva ancora male Oscar Giannino nel suo podcast faceva una comparazione tra le appunto case automobilistiche e Tesla non è la più la più efficiente anzi il revenue per dipendenti sono molto basse rispetto alle altre Tesla beneficia come tutte le case che producono auto elettriche degli incentivi per le auto elettriche e quindi in questi due settori ovviamente la sua vicinanza al governo lo può favorire perché può dire questa regulation non va bene togliamola quest'altra invece mettiamola per non parlare della questione dei dazzi sia la Cina perché il più pericoloso concorrente di Tesla è BYD che è un'azienda di automobili cinesi che produce auto elettriche molto economiche tra l'altro questa cosa degli incentivi come si come si sposa la la richiesta di Elon Musk di ridurre le spese dello Stato e quindi in teoria anche questo genere di incentivi con il fatto che Tesla produce auto elettriche che hanno bisogno di incentivi perché ovviamente togliessero gli incentivi o buona parte degli incentivi comunque Tesla è più solida di tanti altri piccoli concorrenti penso per esempio a Rivian che fa una bellissima automobile un pick up è veramente molto bella quella macchina però Rivian è una start up è una è un'azienda molto molto fragile e quindi togliendo gli incentivi la maggior parte dei concorrenti di Tesla negli Stati Uniti degli Stati Uniti l'azienda americane andrebbero andrebbero a zampa all'aria quindi insomma è chiaro che c'è un conflitto di interessi grosso come una casa nella vicinanza di Elon Musk all'amministrazione Trump ripeto in un modo che è eccola qua sì bellissima mi piace molto tra l'altro Rivian mi piace molto scusate per un piccolo piccolo piccola digressione cinematografica mi piace molto perché Apple TV Plus aveva prodotto una miniserie qualche tempo fa che si chiama Long Way Up con Guarda la Costa perché praticamente è oddio l'attore che ha fatto Obi-Wan Kenobi nella trilogia di Star Wars episodio 1, 2, 3 praticamente vanno dalla punta più a sud dell'America meridionale fino a Los Angeles con le moto elettriche e le macchine di supporto siccome volevano fare una roba tutta elettrica le macchine di supporto erano due prototipi di Rivian che all'epoca ancora non si conosceva quindi ho amato cominciare a amare con le macchine da allora tra l'altro Long Way Up è la terza di una trilogia la prima era Long Way Round da Londra fino a New York se non sbaglio facendo il giro lungo sempre in moto e c'era Long Way Down dalla Scozia fino alla punta meridionale del continente africano queste tre cose le trovate molto belle guardatele molto divertenti chiuso questa parentesi cinematografica questi sono i due conflitti grossi due grossi conflitti di interesse ce ne sarebbe un terzo che però secondo me è meno importante rispetto a questi due quasi direi influente Elon Musk da poco da qualche anno ha un'azienda che si chiama Neuralink che sta producendo una una tecnologia per collegare direttamente il sistema neuronale umano credo sia neuronale in italiano con interfacciarlo con dei computer questo per ridare la vista per ridare mobilità insomma una cosa molto interessante che potrebbe avere un conflitto di interessi caso mai per esempio lo Stato decidesse di finanziare questo genere di tecnologia in qualche modo però questo è totalmente irrilevante rispetto alle altre due totalmente irrilevante il punto è questo che lui non può avere incarichi non può fare il ministro per esempio l'equivalente del ministro segretario di stato proprio per questo conflitto di interessi quello che e lo concludo concludo il discorso con una battuta quello che pare sarà in carico di Musk è il capo di questa agenzia per l'efficienza governativa questo dipartimento in condivisione con uno dei partecipanti alle primarie repubblicane un trumpiano anche lui si era ritirato poi sostenendo Trump che non mi ricordo come si chiama perché è un nome che non mi entra in testa il che è veramente buffo perché un'agenzia ci sarebbe la prima agenzia per l'efficienza governativa che ha due teste quindi già una duplicazione di incarico in totale contraddizione con l'obiettivo dell'agenzia quindi insomma non lo so come va a finire perché poi appunto prima abbiamo accennato alle nomine che sta proponendo Trump che secondo me sono interessanti e chiudo veramente non tanto per il pericolo o meglio non solo per il pericolo che rappresenta per esempio uno come Kennedy che ti ricordi Nicola quando parlavamo prima delle prime elezioni di Trump e ci preoccupavamo nel preparare le interviste che davamo sul Movimento 5 Stelle e una delle battute che ci è venuta era ma se vincono i 5 Stelle cosa facciamo chi mettiamo a fare il ministro della salute un antivaccinista ecco ci sono arrivati i primi americani ce l'hanno fatta loro ce l'hanno fatta loro il collega il collega di Masini però sarà interessante vai 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 scusa vai no no volevo dire il collega di Masini anch'io riuscivo a ricordarmi il nome Rava aspetta che lo devo leggere Ramaswami che è un americano figlio di indiani esatto no secondo me queste nomine saranno interessanti per vedere dove arriva l'influenza di Donald Trump nel partito repubblicano per davvero perché sono veramente nomine alcune sono c'è proprio al di là di questa che se non fosse drammatica sarebbe per le potenziali conseguenze sarebbe quasi folcloristica ma ce ne sono un paio di persone con conti aperti con la giustizia per stupro traffico di bambini cioè roba sì è spettacolare una roba che boh cioè probabilmente avrebbe avrebbe suscitato meno scandalo qua a fare ministro degli interni Totori Ina cioè no vabbè se la se la giocano se la giocano una cosa una cosa del genere però siccome sono nomine che vanno approvate dal congresso che cosa vuoi dire canestrari tu no che vedrai ma perché tu pensi davvero che il congresso si metta nei casini appunto appunto cioè allora il congresso sarà verosimilmente maggioranza repubblicana in tutte e due le camere mi pare che la camera che debba approvare il segretario di stato sia la quella che la la camera bassa la quindi il congresso congresso non il senato mi pare mi pare però non non sono un esperto di istituzione americana però mi pare di aver sentito questo comunque in ogni caso sarà comunque una maggioranza repubblicana che deve approvare i i ministri i segretari di stato i non i segretari di stato i segretari scusate sono oggi veramente non ti preoccupare dillo all'italiano i ministri le dico all'italiano i ministri scusate c'ho la micetta in testa non sta proprio bene sono veramente preoccupato chiedo scusa a tutti comunque sono è una maggioranza repubblicana che deve approvare e deve fare le aduzioni deve approvare i ministri e quindi almeno sapremo fin dove arriva l'influenza di di Trump sul partito repubblicano questo volevo dire scusate la lungaggine Costa aspettate no non lo so allora riguardo riguardo la faccenda delle nomine e la tenuta del partito repubblicano io credo di sì allora Trump partiva lo ricordiamo dal l'essere il candidato quasi per forza del partito repubblicano ma non particolarmente amato dal partito repubblicano che curiosamente se non ci fosse stato Trump a mio giudizio non avrebbe si sarebbe trovato una situazione molto simile a quella del partito democratico cioè quella di avere una linea che non è esattamente una linea perché ci sono delle spinte in alcuni stati di un certo tipo molto suprematisti in altri stati c'è la questione di un aborto e così via quindi il partito repubblicano era in cerca di un leader e il fatto che alla fine si sia candidato Trump è perché proprio il partito repubblicano non ha trovato altri leader da qui visto il successo comunque elettorale che ha ottenuto Trump si può dire che Trump si è conquistato il partito repubblicano adesso bisogna vedere se lo consolida ora secondo me se il buongiorno si vede dal mattino se vogliamo dire meglio se la buonanotte si vede dalla sera nomine come questa mi riferisco in particolare a Gaetz scompigliano il partito repubblicano perché appunto c'è un pregresso c'è un vissuto che è abbastanza difficile da digerire e io penso che gli annunci di Trump siano in linea con il personaggio faccio come mi pare e piace quindi voi non avete un controllo su di me sono io che eserci un controllo su di voi perché senza di me voi sareste nella condizione di quegli altri dei blu del partito democratico sono un giocatore d'azzardo e quindi mi gioco faccio il bluff fino alla fine fino a che poi le carte non devono essere viste adesso vedremo quando si arriverà a mettere le carte in gioco però l'impressione che Trump stia facendo esattamente questo per una forma di consolidamento di una sua leadership che già c'è per carità che però non è così unanime perché ripeto Trump non è stato scelto dal partito repubblicano perché il partito repubblicano lo volesse Trump è stato scelto o si è fatto scegliere in mancanza di alternative quindi sapete qual è la questione io ho la sensazione che siamo in una grande fine distopico in cui si gioca ad azzardo e a me stare in mezzo al gioco ad azzardo non piace a me sembra che la politica un pochino dovunque sia diventata una sorta di gioco ad azzardo con blef dico ma penso un'altra cosa faccio ma non la vorrei fare oppure dico di farla ma poi non la faccio è una continua scommessa un continuo betting che secondo me fermo con quella penna biondo fermo con quella penna non l'avevo neanche sentita biondo fermo con quella penna biondo quindi questa è la mia sensazione su Trump poi vedremo che cosa succederà perché prima o poi anche Trump anche uno come Trump dovrà 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 fare i conti con la realtà certo tirare la corda è la cosa che gli viene meglio abbiamo un sacco di tempo per raccontare storie da questo da questo mondo distopico io vi lascio con con un compitino provate a mettere a fare una squadra di calcio con gli undici capi di stato di governo dittatori autocrati in questo momento al potere nel mondo e vedrete che cosa esce fuori vediamo dove arrivate se ha una squadra di calcetto o una squadra di Coppa Davis a una squadra di basket o a una di calcio a undici leggeteli due o tre volte e vedete se non c'è da farsela addosso io invece vi lascio visto che siamo aspetta andiamo a parlare ancora dell'ultima singolar tenzone a colpi di suga che è quella tra tra i due Giuseppe ma dai ma su ma a me piace provocare biondo così no no ma che mi provo a me mi provo l'altra volta ho sentito una cosa troppo divertente ma davvero troppo divertente io devo dire la verità non sto seguendo quello che stanno facendo ogni tanto mi passano le notizie dobbiamo votare ma che cosa l'unica novità è che la strategia di Grillo adesso è quella di far mancare il quorum perché come sai Costa noi abbiamo l'esperienza di questo quando si votano gli statuti le cose nelle associazioni ci vuole una maggioranza qualificata e quindi quando ci sono modifiche importanti è necessario che partecipino almeno la mità degli eventi di diritto non basta che una delle due parti abbia la maggioranza e quindi la strategia di Grillo adesso è far mancare il quorum stai cercando in ogni modo di far mancare il quorum alle votazioni e di contro la cosa divertente è che tengono aperte queste votazioni per giorni e giorni in modo che la gente arrivi e voti vabbè ma questo è veramente il karma definitivo cioè capisci Nico siamo passati dal non statuto della non associazione al facciamo mancare il quorum non dire parolaccio quelle le posso dire solo io e CFA bravo vabbè però lo capisci che è poco interessante poco fa ti dicevo ho sentito una cosa divertente ma divertente è tipo le barzellette che si raccontano in bambini di otto anni cioè uno che dice all'altro eravamo in movimento 5 stelle e l'altro che risponde oggi siamo in movimento 4 voti cioè ormai capisci per raccontare per raccontare tutta sta roba qui servono solo battute del genere un po' stupidine un po' banali non c'è sì va bene quindi ecco perché non mi va a parlarne perché infatti l'ho lasciato alla fine perché l'ho lasciato alla fine negli ultimi veramente due minuti perché è una roba cioè è molto più interessante vedere Beppe torna a fare Grillo facci divertimento non ci farò non ci stai stracciando le palle ci stai veramente stracciando le palle cioè è come io ho la sensazione di essere a uno spettacolo di Grillo in cui lui per un'ora e mezza fa battute e nessuno ride cioè questa è la sensazione che ho questa è la cosa più divertente che si potesse dire su di uno questa è la sensazione che ho senti scriviglielo fagliela sapere questa cosa magari magari vi rincontrate un'altra volta vi abbracciate cioè lui era uno che si vantava di riuscire a far ridere un pubblico di due persone e diceva guardate che far ridere un pubblico da un palco di due persone è veramente difficile veramente ed è vero lui era era il più bravo cioè io ho la sensazione di guardare uno spettacolo suo di un'ora e mezza in cui lui fa battute e nessuno ride cioè una roba tristissima mi hai fatto però spaventare sta cosa sta cosa che hai appena detto mi hai fatto veramente spaventare lo so io faccio tutte cose ti compaio in sogno ti faccio spaventare io sono anni che faccio ridere un pubblico di due persone e siete voi due vedi che cazzo mi vuoi dire che mi va a finire come grillo no no tu sei il nostro Beppe Grillo Nicola ecco vedi vedi la cattiveria io l'ho bullizzato per fare ridere un po' di gente che ci ascolta e lui si vendica così vabbè a colpi ragazzi io vi vorrei lasciare perché me la sono me la sono andata a cercare con una con una citazione di Kurt Vonnegut che è uno dei più grandi scrittori contemporanei ora che ti rispondo con Max Pezzali no sì tu mi guarda tu puoi fare quello che vuoi io ormai ho messo le armi in naftalina con te su questa cosa sei irrecuperabile che siccome ti si vuole bene pazienza il buon Kurt diceva che ci sono troppi esseri umani che non vogliono ridere che non riescono a pensare che vogliono soltanto credere arrabbiarsi e odiare questa è roba seria una bella fotografia voi non siete fra questi perché ridete un sacco un po' mi sforzo pure io nel farvi ridere il famoso pubblico di due persone no Canestrari pensa pensa un sacco di cose sì anche De Blasi penso Canestrari si vede pensa un sacco di cose soprattutto lui pensa che cosa non deve dire delle cose che pensa il che gli fa gli fa io sono sono come Berlusconi ho pensato talmente tanto che c'è un'ipertrofia cerebrale che ha espulso i capelli come diceva Berlusconi le sa tutte passa da Max pensare a Silvio Berlusconi mi fa morire mi fa morire io vi vorrei invece lasciare con un pensiero magari una riflessione che poi forse faremo pochi sanno che si sta votando in queste ore in Emilia Romagna e Umbria e di queste elezioni non se ne frega perché 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 dici la tua che poi ti stacco la linea perché è novembre credo no 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 ma devo non ho la mia soluzione ci penserò però rilevo questo no fino all'altro giorno Liguria non si parlava è incredibile non se ne parla come se non esiste manco fosse il Molise manco fosse il Molise esatto però non se ne parla nessuno non ne vuole neanche nel above the fold della home page di Repubblica hai ragione cioè non c'è proprio nulla di questa roba ci devi andare a scrollare c'è il MotoGP questa poveretta che è finita nelle grinfie di un di un anestetico somministrato male oh dove ah eccole qua eccole qua le elezioni sì dopo cioè dopo la cronaca nera le hanno messe dopo la cronaca quindi sarebbe cronaca rosa sì perché effettivamente sì perché poi c'è Gasparia urna aperta silenzio elettorale non esiste più che è cronaca rosa che è cronaca rosa con rispetto sempre della funzione senatoriale del nostro e poi giustamente c'è lo sport con Sinner va bene va bene vi abbraccio sì vi abbraccio sì dai abbraccio mi ne ho tanto abbracciamoci tutti dai bravo mi raccomando ricordate mai credere troppo arrabbiarsi e odiare comunque tutte e tre le cose insieme che poi va a finire male che bravo che biondo ciao ragazzi anche a voi ciao